Oggi è mercoledì 3 luglio, isola di Pach, selvaggia natura, selvaggio sentiero. Nella selvaggia natura, bellissimo sentiero, e sbuca sulle rive del mare dell'isola di Pach, con tante golene, anse, che costeggiano la natura selvaggia, nel bellissimo sentiero. Bellissimo mare, natura, sole, isola di Pach, a nord dell'isola verso 12 e 11. Un grosso ragno, ha costruito la ragnatela da un albero all'altro. Guardate che enorme questo ragno, una ragnatela lunga 10 metri quasi.